Una notte d'altri tempi, la Prologo Cerese, in 1982, ha messo in campo uno sforzo organizzativo enorme per proporre alla popolazione locale l'edizione del 2017 della sposa cerese nel tempo. Un evento che ha richiamato in piazza Castello centinaia e centinaia di amanti degli abiti da sposa e da cerimonia in generale e soprattutto delle tradizioni locali e antiche di un tempo. La coreografia, studiata per l'occasione, è stata di quella d'eccezione e è stata pensata da cerese doc Mario Rossi, che si è occupato anche di far rivivere gli antichi fasti del matrimonio cerese con scene scritte e realizzate da attori locali. Manifestazione arricchita ancora maggiormente dal padrocinio con il comune di Colli a Volturno, Cassa San Vincenzo e Cunga Casale. Gli abiti di Colli e San Vincenzo hanno fatto bella mostra di sé, indossati da giovani modelli del posto. Oltre 20 gli abiti in sfilata dal 1970 al 1990 fino ai giorni nostri. Emozione davvero speciale per il presidente della Prologo Cerese, in 1982, il Tino Paolone, che con tutti i suoi collaboratori è riuscito a rivalorizzare da anni la storia antica del matrimonio di Cerro a Volturno, con tutti i suoi risvolti antichi. Soddisfazione spessa anche dal sindaco di Cerro, Remo Diani, che si è complimentato con la Prologo Locale.